Ma in Italia voi non vieni più? Ma è tutto gennaio, sì. Ah, sei stata? Sì, perché faccio delle... No, un mese, perché faccio dei lavoretti. La parola lavoretti per i due pervertiti ha un solo significato. Quei lavore? Ho fatto delle campagne. Ah, buon agricoltore. Le campagne pubblicitarie imbecille. Senti, ma i rapporti con la suocera come sono? Buoni, meno male, poi stai a 5 ore di aereo. Che cazzo la suocera? Stai a 5 ore di aereo. Ah, a 5 ore di aereo? Ma lui sta lontano, grazie che non rompa le pavole. Ecco perché non vieni da porto, perché non ti vedi.